Benvenuti al secondo appuntamento con TG Socialmente, il programma che vi permette di approfondire le tematiche sociali e conoscere le iniziative delle numerose associazioni di volontariato presenti sul territorio trentino. E allora a qualche istante di pubblicità ci ritroviamo qui, a fra poco. Passa il tempo, le stagioni, passano gli anni, ma il tuo parapetto Alurei durerà per sempre. Alurei fornisce ed installa parapetti in alluminio con verniciature, effetto legno, tinta RAL o finiture speciali con garanzia decennale. La miglior tecnologia con una consulenza senza eguali. Mettici alla prova www.alurei.it Alurei, l'estetica del legno, la forza dell'alluminio. Il riso fa buon sangue. E' questo uno dei principi su cui si basa il lavoro dei clown in Corsia, un team di volontari che opera all'interno della Croce Rossa Trentina e che è ormai diventato un'eccellenza sul nostro territorio. Il clown di Corsia vive e condivide un momento di leggerezza. E poi prosegue verso la stanza successiva, lasciando una scia di colore, quasi un piccolo semi di vitalità riaccesa nelle persone malate e sofferenti. Ma per conoscere meglio questo team di volontari, Nicole Mazzetto è andata a trovarli. Una figura non molto conosciuta, ma presente costantemente nelle maggiori case di cura, è quella del clown in Corsia. La loro attività, che opera sotto l'ala della Croce Rossa italiana, accompagna la terapia medica durante il suo svolgimento, apportando un sostegno psicologico al paziente. Quest'idea è nata una quarantina di anni fa, quando il medico Hunter Patch Adams promosse la teoria secondo la quale, nell'individuo malato, accanto alla sofferenza fisica, si celassa anche un altro tipo di malessere, quello emotivo e psicologico, che causa malinconia, paura e tristezza. Gruppi di volontari hanno così iniziato a popolare ospedali, case di riposo, scuole e strade, armati di naso rosso e di calze colorate, felici di poter donare un sorriso a chi la vita fa invece fatica a sorridere. Recenti studi hanno inoltre dimostrato l'efficacia di questa terapia e gli effetti benefici che risedono dietro ad un semplice sorriso. Il sorriso ha infatti la capacità di aiutare il paziente a distogliere l'attenzione dal dolore fisico. Essendo un esercizio muscolare e respiratorio, facilita la produzione di endorfine, note per alleviare la percezione del dolore. La comicoterapia vede quindi numerosi volontari che in veste di clown danno prova della loro generosità e simpatia. E così le gag di questi volontari non regalano soltanto il buon umore e l'allegria, ma aiutano soprattutto i pazienti a sentirsi al mondo, amati e divertiti da chi si mette in gioco per ricevere in cambio una risata salutare nel vero senso della parola. Che tipo di relazione si spera di instaurare con il paziente? Allora, una relazione di tipo empatico senza dubbio per riuscire ad entrare nel frangente di questo periodo che hanno questi pazienti che sono o allettati o sono in ospedale o sono in ambulatorio, riuscire ad entrare in modo simpatico e riuscire a, per quel pezzettino che possiamo aiutarli, riuscire appunto con simpatia e con un sorriso ad alleviare la loro sofferenza. In quanto apatia e possibili muri emotivi, come ci si aspetta di affrontare questo tipo di ostacoli? Questa è una bella domanda, perché ce lo chiediamo spesso e volentieri anche noi quando vediamo i bambini o anche gli adulti. Di volta in volta cambia, può essere una carezza, può essere una bolla di sapone, può essere una barzelletta e tante volte abbiamo anche dei muri con i quali non ci si può raffrontare, noi non riusciamo a spezzarli e dobbiamo semplicemente accettare quello che ci impone il paziente in quel momento, l'utente in quel momento, la persona, non possiamo sforzare. In linea di massima si provano tante cose, i bambini vanno bene alle bolle di sapone, il palloncino, lo sketch, il libro magico, una magia, i bambini prendono tantissimo, anche con gli anziani devo dire. Ci si rapporta volta per volta, si vede. E per quanto riguarda i più piccoli, quali sono le attività più apprezzate e preferite? Ah beh, ma con i bambini va bene un po' di tutto, cominciamo appunto da, vediamo dagli animaletti, abbiamo i peluche, i palloncini, i libri magici, abbiamo dei clown di corsia che sanno veramente, fanno delle magie, delle micromagie che sono fantastiche, rimango incantata anch'io tutte le volte. Ecco, appunto, aiuto. C'è un po' di tutto, ripeto, volta per volta, volta per volta si vede quello che si può usare. E al termine di questa opera di volontariato e questa attività, quale bagaglio emotivo ci si aspetta di portare a casa? Allora, noi cerchiamo di non portare mai bagaglio emotivo a casa, appunto per questo alla fine di ogni servizio, vero? Anche tu vuoi fare l'intervista, perfetto, abbiamo un altro clown che fa l'intervista, potrà portare via il posto la vostra presentatrice. Allora, alla fine di ogni servizio noi facciamo una condivisione, si chiama così, nella quale cerchiamo di creare questo cerchio e lasciare tutte le emozioni negative in questo cerchio, in modo di poter veramente portare dietro solamente le cose positive. Andiamo in crack e va a finire che poi nel servizio successivo non possiamo lavorare serenamente. Noi dobbiamo necessariamente lasciare tutte le cose brutte in questo cerchio e rimane solamente qua. Si parla tanto di clown terapia, ma tu ci credi? Direi proprio di sì, ed è anche provato scientificamente. Come il dentifricio praticamente, è provato scientificamente, ma qual è la prova scientifica di questa cosa? Ma posso finire o devi sempre interrompermi ogni volta che sto per finire la frase? La prova scientifica è che il riso fa buon sangue, come dicevano i nostri nonni. E la pasta asciutta? Un po' meno sangue. Ciao riso! Ciao riso! Bene, 70 clown attivi nel Trentino che ogni giorno fanno servizio nelle case di riposo, nelle pediatrie e in situazioni come queste, dove vogliamo stare vicini ai bambini, vado bene come giornalista, vicini ai bambini che ne hanno bisogno. Ma di tuo... Ciao bambini! Ciao bambini! Bambini che ne hanno bisogno. Ciao bambini! Ma tu sei di tuo così o lo diventi? Lo divento ogni qualvolta metto il naso, perché nel momento in cui metto il naso io sono così. Buonasera e cosa ha detto prima la giornalista? Arrivederci a te studio. E noi ringraziamo Ranocchio, che un bacio porta sempre bene.